Tra il 2006 e il 2008 ha recitato nelle sitcom 7 vite piloti per Rai 2, quindi in medici miei per Italia 1 e ha partecipato come valletta in due programmi comici, cioè all'SNL Italy su Italia 1 e alla tintoria su Rai 3. Nella stagione 2006-2007 è stata inviata di Pianeta Mare su Rete 4. Nella stagione 2007-2008 prese parte allo show Artù su Rai 2 come valletta. Nel 2007 è stata inviata di Talent 1 su Italia 1. Dopo aver partecipato a Veline nell'estate 2008. Nella stagione 2008-2009 è stata inviata di questa domenica. E quindi anche del Veglione e questo Capodanno. Su Canale 5, dal gennaio 2009 all'aprile 2011 Mikol Ronchi ha fatto parte al cast fisso dello show di seconda. Serata Chiabretti Night insieme a Jonathan Kaschanian, Fiammetta Cicogna, Alberto Argentesi e Luca Passinari. Quindi nella stagione 2011-2012 è tarifatto parte. Insieme ai personaggi citati e ad altri partner. Allo spin-off Chiabretti Sunday Show di prima serata su Italia 1. Dall'aprile 2009 al giugno 2012 ha partecipato al cast fisso dei contenitori di video news mattino. 5 e pomeriggio 5 curando le rispettive rubriche di costume, moda e spettacolo. Sempre in tale periodo fece parte del cast fisso degli spin-off estivi a gentile richiesta. 2010, pomeriggio 5 estate, 2011, e pomeriggio 5 cronaca, 2012, ricavati da pomeriggio 5, nelle stagioni 2009-2010 e 2010-2011 partecipò al corpo di ballo di domenica 5. e quindi partecipò ai vari veglioni di capodanno 5. Come ballerina, nel dicembre 2010 ha partecipato al game show di Italia 1 Decolle nel gennaio 2011 al Varietà di Canale 5 stasera che sera, prodotto da video news. Nel maggio 2011 mi coloronchi partecipò, su Italia 1, al nuovo reality show Woman Take Control, nel ruolo di giurata e opinionista insieme ad altri partner. Nell'estate 2011 su Italia 1 partecipò, come modella, al programma tabloide e recitò nella sitcom Quelli del Puppet. Tra il 2011 e il 2013 ha recitato in varie sitcom di Italia 1. Cioè in SMS squadra molto speciale. Così fan tutte, Ricci e Capricci, Spa. Nel maggio 2012 la Ronchi partecipò, come ballerina, a Colorado Sto Classico su Italia 1. Nella stagione 2012-2013 ha recurato alcune rubriche di occupi DJ su DJ TV e nello stesso periodo ha fatto parte del cast del Corpo di Ballo dei Varietà di Rai 1. Non riusciranno i nostri eroi. E Red or Black, tutto o niente, nel 2013 ha partecipato, come valletta, alle trasmissioni comiche di Rai 2 a gratis. E Rai Boestate, nella stagione 2013-2014 tornò su Italia 1 perché divenne l'inviata del rotocalco televisivo di Video News Lucignolo 2, 0 condotto da Enrico Ruggeri e Marco Berri.